L'influenza in Italia viaggia come non avveniva dal 2010, l'anno della pandemia da influenza su Ina. Sono state 171.000 gli italiani messi a letto nella scorsa settimana da sindrome influenzali, secondo i dati forniti dall'ultimo monitoraggio della rete di sorveglianza InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità. L'incidenza è pari a 12,9 casi per 1.000 assistiti, contro 9,5 della settimana precedente, un balzo importante secondo l'IS. A essere particolarmente colpiti sono i bambini al di sotto dei 5 anni. Al monitoraggio del fenomeno però non contribuisce la Sardegna, che insieme a Calabria e Campania non ha attivato la sorveglianza InfluNet. La macchina sanitaria della regione Sardegna è pronta per affrontare il ciclo vaccinale che in alcuni distritti è già iniziato, in altri stiamo completando gli accordi con i medici medicina generale per garantire la massima copertura a tutela della popolazione più fragile, rappresentata dagli anziani, dagli immunodepressi e dalla popolazione infantile. Abbiamo un vantaggio rispetto ad altre regioni d'Italia perché in Sardegna, grazie a un clima mite, la sindrome influenzale arriva sempre con almeno un mese di ritardo. I medici di famiglia sono alle prese con centinaia di chiamate, così come i pediatri, che lavorano sotto la pressione dell'altissima diffusione del contagio tra i più piccoli. Le attese al numero ASL per prenotarsi sono infinite, i turni di vaccinazione lunghissimi, molti sono costretti a comprare la dose in farmacia, spendendo di tasca propria 18 euro. Per molti cittadini si tratta di una campagna inesistente. Un uomo di 65 anni a Olbia ha denunciato di aver provato a chiamare per ben 62 volte l'ASL, trovando la linea sempre occupata e non avendo mai alcuna risposta. Le persone più fragili si trovano così costrette ad agire per conto loro, se non vogliono attendere un mese per essere vaccinati.